Il progetto sta procedendo bene, siamo quasi raggiunti alla fine. Speriamo che saremo valutati positivamente, che le nostre competenze e i nostri sforzi saranno ripagati. Ogni persona del team cerca di mettere le proprie capacità. Quando per esempio ci vediamo, cerchiamo di mettere insieme tutte le nostre capacità e concluire in un unico progetto. Lavorare in un gruppo non è la prima volta che mi capita, mi è già successo a scuola, però è proprio diverso anche il modo, anche perché comunque è un gruppo di gente con conoscenze diverse dalle tue e tu porti qualcosa di tuo, loro danno qualcosa di loro e da queste conoscenze viene fuori quello che è un progetto e che è veramente una cosa di indescrivibile. Cioè realizzare qualcosa con le conoscenze che appunto in anni si dava a scuola e poi metterle in pratica è veramente fantastico.